Paparomeo 085, cuore Z CQ 40 metri, CQ 40 metri, CQ 40 metri Chiama la Italia, Quebec 4, Foxtroteko, Barrato Portatile Italia, Quebec 4, Foxtroteko, Barrato Portatile Chiama per il diploma Castelli Italiani dalla referenza Paparomeo 085, Paparomeo 085, cuore Z CQ 40 metri, CQ 40 metri, CQ 40 metri Chiama la Italia, Quebec 4, Foxtroteko, Barrato Portatile Italia, Quebec 4, Foxtroteko, Barrato Portatile Chiama la Italia, Quebec 4, Foxtroteko, Barrato Portatile Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Posso filmarla? Mi do l'attenzione per la privacy. No, non c'è problema. Grazie.